e ciao a tutti ragazzi sono gente per ritrovati qui sul mio canale siamo qui in un nuovissimo gioco una nuovissima serie che potrebbe andare avanti sul nostro canale ragazzi super meat boy sicuramente molti di voi lo conosceranno molti non lo conosceranno non lo so ragazzi sono su playstation 4 perché l'hanno diciamo fatto anche per playstation 4 allora vedete lui è meat boy dopo vi spiegherò e lei è bandage girl lei ama lui e lui ama lei robe alla twilight lui è il dottor fetus perché puzza malissimo nessuno ama il dottor fetus forever alone per questo il dottor fetus ti odia proprio così ma soprattutto il dottor fetus odia meat boy vabbè andiamo avanti ok ragazzi questo è un gioco che principalmente è per pc lo trovate per pc solo che l'hanno fatto da poco anche per playstation 4 solo per gli abbonati al playstation plus ragazzi io questo gioco l'ho già giocato per pc non tutto lo avevo nemmeno quasi finito perché è veramente lungo non è impensabile veramente riuscire a finire tutto sto gioco potremmo arrivarci tutti insieme ragazzi io è una prova che sto facendo perché anche molti di voi mi hanno detto di variare un po sul canale io vi porto super meat boy però dovete farmi capire che voi volete questa serie che inizi questa serie arriviamo a 60 70 mi piace per farmi capire che volete che continui questa serie su super meat boy che è praticamente un super mario un po più avanzato cioè nel senso molto più avanzato e quindi signori se voi siete pronti a vedermi sclerare io sono pronto praticamente si divide in livelli e ogni livello ha dei sottolivelli quindi robe strane e ogni livello c'è la storiella come vedete come vedete ci sono 20 sottolivelli nel primo livello che è the forest praticamente noi in ogni livello dobbiamo raggiungere dall'altra parte del coso la nostra amata allora qui ok con la x vedete già il primo livello è andato molto easy ragazzi qui era anche impossibile impossibile morire e poi pian piano ragazzi diventano molto più difficili ok questo è il tasto per la velocità r1 ragazzi mi raccomando tanti mi piace mamma mia sono un pro ragazzi sono un pro magari non lo facciamo durare tantissimo sto video perché voglio capire comunque se vi piace fatemi capire ragazzi mi raccomando che volete che io continui questo gioco io lo amo sto gioco perché è veramente qualcosa di assurdo perché a parte che scleri malissimo però è anche divertente cioè ci rimani proprio dentro proprio male ok dove la guarda c'è semplicissimo alla fine allora guardate queste queste cose qui sono altri sottolivelli che praticamente voi potete è tipo un game boy voi potete sbloccare altri personaggi ovviamente dovete superare questi livelli cioè non è che ve ne andate così ok ma lo ricordavo ok abbiamo dovremmo no sono due livelli ok dobbiamo andare dall'altro lato quindi noi scendiamo qui e adesso dobbiamo far così oppo ecco va bene abbiamo tre possibilità se muoriamo non possiamo più sbloccare va bene e mi sa che questo non lo sbloccheremo mai ok andiamo qui ok no perché non funziona vabbè mi sa che si può rifare allora ritorniamo al livello 5 poi lo rifaccio io magari piano piano non sono importante alla fine penso che useremo sempre super mit boy e ragazzi mi raccomando ve l'ho già detto arriviamo a 60 70 mi piace per farmi capire che volete questa variazione nel mio canale veramente questo ragazzi non vedete adesso che sono un pro player io però veramente dopo un po ci diventa veramente difficile e veramente ci rimani le ore le ore ma 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 gli anni per finire dei livelli cioè io sto andando proprio con nonchalance vedete perché alla fine ci ho già giocato però però dopo un po vi posso assicurare il forest che è quello più facile cioè alla fine ci riuscite anche voi questi qua sono quelli che si disintegrano quando ci passi quindi dovete fare più veloce mamma mia raga raga ma che ve lo sto di affare sono un pro player sono un pro player se pensate che sia noioso perché so giocare perché ci so già giocare raga veramente ci ho giocato veramente tipo l'anno scorso ecco sono già morto una volta come vedete rimane il sangue e cose e cose non pensate che io mi ricordo a tutti i livelli e quindi c'è scialla aspettate di vedere più in là perché è veramente tosta è il primo il primo livello che sono e che è facile alla fine poi dopo un po raga veramente vi assicuro che è veramente qualcosa di ecco vedete già iniziamo male perché questi quasi disintegrandosi poi tu devi essere veloce a fare in questo modo raga ma non mi ha dato la più bastianic allora lì c'è l'altro ok facciamo così poi andiamo su occhio alle rotaglie le rotaglie ok andiamo qui no sblocchiamo qui nooo ok l'abbiamo sbloccato l'importante è sbloccarlo raga poi potete farlo quando volete cazzo è oh oh questo non me lo ricordo ma ok questo spara arcobaleni dal ah ok ma l'abilità di questo ah che uso può rimanere bloccato se premete una volta x e poi tenete premuto x vola ma adesso non ha volato ma che cazzo di salto ha fatto ok ho detto l'importante è averlo sblocca perché non rimani perché non va raga ok ok ci siamo ok ragazzi vai quanti sono ok andiamo al prossimo ragazzi sono un pro dicevo sono un pro vabbè io ci sto giocare ma veramente se voi ci giocate per la prima volta comincete a sclerare già dal primo livello ebbah ok abbiamo sbloccato questo qui che spruzza arcobaleni dal culo no l'ho rifatto scusate ok siamo a livello siamo tornati a livello 12 perché non l'avevamo completato prima per prendere il ecco per prendere il ecco con calma con calma non c'è fretta non c'è fretta la fretta c'è però oh mio dio oh mio dio non fa lo stronzo perché ecco ok è fatta livello completato però il prossimo il prossimo avanti un altro avanti un altro bonolis ok no ok ok qui che dobbiamo fare ok questo modo e poi dobbiamo andare veloci sotto via ok ragazzi livello 14 livello 14 mamma mia raga guardate che pro sono un pro un pro signori livello completato perché non mi sta dando più le api oh non me lo ricordavo sto qui attenzione e lo schiva le skill le skill incredibili le skill incredibili minchia è là che mi invento là con calma vabbè con calma ok possiamo farcela con calma no ok e mo cioè spara questo e che devo fare dal veloce oh mio dio signori oh mio dio signori non mi da più le api giochi di pa giochi di parole incredibili attenzione spruzza c'è spruzza ragazzi non prendete a male il fatto che io dica spruzza però capitemi non certe volte non mi vengono le parole e bamos signori alla velocità della luce signori c'è una velocità pazzesca the giant the giant è assurdo un coniglio ho ucciso un coniglio scusa coniglio non lo fa no uno scogliato lo era ne ho ucciso un altro raga no allora come funziona qui dobbiamo andare da questa da questa sì che da questa sì che da questa vieni qua donzella donzella oh oh ok con calma qui guardate il sangue che sgocciola lezzo proprio lezzo proprio signori popolezzo mamma mia gente è proprio un fenomeno sto gioco c'è ragazzi è proprio un fenomeno è proprio oh mio dio ho detto qua sono morto c'è l'ho detto tra me e me ho detto qui sono morto oh c'ho qui oh c'ho al buccio oh c'ho al buccio e di lì come si va al buccio un attimo ma porco schifo come si va dal buco dell'ozono che poi io lo chiamo un buco dell'ozono ma c'è penso si chiami così ok qui non mi prendi no ok numero incredibile ok qui come si va si sbriciola questo o signori un fenomeno un fenomeno vediamo quest'altro buccio cosa ci dice questo non l'avevo mai visto visto mid boy che oh mio dio in bianco e nero e come si fa raga ma è impossibile ah ok un attimo ok numero incredibile attenzione no ok ok ci siamo raga ci siamo andiamo ok mamma mia signori un altro l'ultimo livello l'ultimo livello e magari poi chiudiamo dove sono a eccomi da dove spara un labirinto incredibile e vai nel buccio ok 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 e vabbè però che palle e infinito ok ma io lo adoro sto gioco ragazzi non so se voi l'avete mai giocato però c'è giocateci scaricatelo per la playstation perché ah no ecco dove sta il trucco ho capito lo devo far veloce devo far veloce raga vedete che si sgretolano piano piano veloce mit veloce 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 dai dai e zi dai e zi non l'avevo visto ok ragazzi e sblocchiamo un altro personaggio no quanti livelli sono oh ogni tanto come non sono morto sgretolati e vaffan cuore ho altre due vite facciamo questo raga e poi chiudiamo l'episodio anche perché abbiamo fatto un botto di di livelli no l'ultimo no raga non possiamo perdere cioè non possiamo chiudere l'episodio perdendo non so io me le tiro vabbè dai c'è livello 19 perché non me l'ha lasciato però non ho capito perché non me l'ha lasciato vabbè poi me lo faccio io allora vabbè arriviamoci magari prima del boss così la prossima giochiamo il boh facciamo direttamente il boss arriviamo al ventesimo e poi concludiamo guardate la nonchalance di the giant ah è qui ok con calma si vai spara spara zi spara zi livello completato ok ultimo live ma perché ok spara spara lesto spara lesto e vabbè ok 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 così però devo prendere il cerotto il cerottino quelli di regola dovete raccoglierli raga però dovete raccoglierli tutti cioè non è che dopo un po ok no è impossibile no ok ci sono non ci sono con calma con calma con calma prendilo ok l'ha preso l'ha preso è qua che mi invento allora facciamoli sgretolare mamma mia raga sono un pro poi saltiamo e velocità no 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 e no no con ca da da o non è che amo agli ultimi livelli ci dobbiamo imputtana vabbè sti casi al cerottino oh non mi ricordo cosa hai coi cerottini forse riesci non russi la notte tipo i cerottini nasali robe del genere e prende la velocità e perché non salta ok 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 sgretola ti e aspetta un po adesso 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 mamma mia numero numero incredibile sgretola ti tira tira madonna che culo che buccia no no raga no non all'ultimo perché stavo andando così bene perché arriva all'ultimo livello e devo prendermelo nel meat boy perché perché vabbè ma adesso questo lo facciamo con un cialanze dai ma che palle vai giù vai giù vai giù vai giù ok facciamo così così non non rischiamo no ma perché ah perché adesso perché perché eravamo andati bene avevo fatto capire che ero un pro player e adesso mi prenderanno tutti in giro perché 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 la domenica mi lasci si ok e saltiamo vai giù è fatta raga e fa è fatta ma in catar vittoria è fatta adesso sì ok siamo al boss ragazzi lo faremo il prossimo episodio signori io spero che video vi sia piaciuto mi raccomando fatemi sapere se vi può interessare una serie su super meat boy io vi consiglio e di farla continuare perché mi diverto raga io so che adesso inizia eppure tu inizia a chiedere mi piace raga ma è un canale si basta soprattutto su visual e mi piace è inutile che io vi porto un contenuto che a voi non piace e che non seguite lasciando mi piace voi mi fate capire se vi piace il gioco o non vi piace è semplice ragionamento io spero che video vi sia piaciuto se faccio così lasciato mi piace commentate condividete mi raccomando questa è la mia pagina facebook sul mio profilo istica mi sta in gaming tutto sotto in descrizione il video è finito del gioco è tutto ciao a io